Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK. Nel video di oggi introduciamo i due nuovi microfoni che sono appena arrivati e vi faccio vedere l'unboxing, quindi sarà più un video di rumori eccetera, anche se parlo un pochino in inglese. I nuovi microfoni sono degli AKG P220, sembrano andare molto bene, sono riuscito a fare qualche settaggio, ovviamente li ho appena montati quindi dovrò trovare ancora un attimino la perfezione del settaggio, però a livello di rumore di fondo che era quello che è il problema fondamentale dello Yeti, sembrano andare molto meglio, quindi se con i rumori riesco a gestirli bene, vuol dire che con la voce dovrei riuscire a fare molto meglio. Adesso questo pezzettino l'ho filmato così seduto, ma probabilmente normalmente andrò a fare il video in piedi come l'ultimo video in cui l'audio era molto più, diciamo così, dinamico per cui c'era anche poco rumore. Inoltre con questa posizione dei microfoni sicuramente è molto meglio essere in piedi e potersi muovere molto più facilmente. Questa è solo l'introduzione di questo video, quindi ho deciso di farlo un po' così sul momento e lasciarvi vedere il video dell'unboxing che è molto più importante in questo caso. Vi ricordo che ho il canale che si chiama Vivere in California dove potete anche abbonarvi al canale per vedere, insomma, per ricevere le informazioni per quanto riguarda la California, le cose un po' più private e inoltre è importantissimo che mettiate il like sui miei video ovviamente se vi piacciono perché l'algoritmo di YouTube ovviamente funziona in questo modo. Adesso facciamo il conteggio alla rovescia e dopodiché facciamo partire l'unboxing di questi nuovi microfoni, ok? Vi ricordo di, prima di arrivare allo zero, di abbassare il volume perché se parte la pubblicità potrebbe essere un volume eccessivo, visto che normalmente si ascolta l'ASMR con le cuffie, ok? Iniziamo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, tre, due, uno, spot. ... ... ... Grazie. 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 Geri rig. Everything knife. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.